Dobbiamo rinforzare i servizi per rilanciare le frazioni. A ribadirlo è l'amministrazione di Palazzo Rosso che festeggia il ritorno di un medico di base nella Pieve Castionese dopo due anni di fermo causa carenza di medici e costi di gestione dei locali troppo elevati. La soluzione è arrivata dalla parrocchia di Castion che dopo aver ereditato lo stabile già sede dell'ambulatorio in passato ha scelto di offrirlo incomodato d'uso gratuito a un giovane medico neolaureato messo a disposizione dall'azienda sanitaria che da ieri pomeriggio ha preso servizio. Ci siamo sentiti veramente presi in carico di dare una mano alla nostra gente e al suo bisogno insomma di avere anche un medico di base che ultimamente era venuto a mancare e quindi c'era un grosso problema di dire come facciamo soprattutto le persone più fragili, gli anziani che dovevano avere sempre una persona disponibile a spostarli e portarli dal medico. In mattinata a Palazzo Rosso la firma sull'accordo che sancisce la concessione dell'immobile di via primo maggio almeno fino al completamento delle ristrutturazioni che il comune intende avviare in un altro immobile, questo invece di sua proprietà, prospicente la piazza cittadina e individuato come futura sede definitiva degli ambulatori. Ad oggi non esiste però né il progetto né la fonte di finanziamento ma le intenzioni dell'amministrazione in compenso sono chiare, la creazione di un polo di medicina generale perché solo così sarà possibile garantire un servizio duraturo e di qualità. L'idea dell'amministrazione è quella di pensare a una riqualificazione che si possa così fruire di più ambulatori ma ricreare quel polo di medicina generale nella pieve castionese quindi questo è il futuro è quello in cui stiamo lavorando per il momento credo che sia già una grande risposta avere un medico disponibile a venire lì e avere i locali disponibili gratuitamente.